buongiorno a tutti allora proseguiamo proseguiamo con le schedine e bollettine con le schedine non esageriamo con le schedine del gigione con il campionato spagnolo perché dopo la partita di questa sera sono curioso di vedere come finisce cadice ghetafe abbiamo il derbone subito alle 14 domani real madrid espanol derby a senso unico teoricamente però è sempre un derby 1 la donna seconda contro la tredicesima non penso ci sia gran che chance però tutto può succedere mi stop un attimo proseguiamo proseguiamo la seconda partita elce ventesima ormai quando sei disperata veramente l'elce 10 punti poche chance di salvezza oramai sta solo onorando il campionato contro il bagliadolid quattordicesimo partita da 1 2 perché il pareggio sinceramente non serve a nessuna delle due non che la vittoria cambi più di tanto la classifica del bagliadolid se non quella di allontanarlo ulteriormente dalla zona pericolo una vittoria per l'elce forse lo porterebbe a 6 a 7 8 punti dal 9 punti dipende cosa fanno le altre a 8 7 punti dal da quelle sopra ma cambierebbe ben poco però almeno si toglierebbe la soddisfazione di vincere davanti ai suoi tifosi quindi 12 selta vigo raio vallecano la doll dalla dodicesima contro la settima anche qui 12 perché il pareggio che serve non serve al selta vigo che è dodicesimo ed è lì che in una posizione molto tranquilla di classifica il raio vallecano ha bisogno di vincere perché comunque si sta giocando l'europa e settimo è lì a limitarne l'europa per non dire quasi in conference però deve anche ottenere questo settimo posto eccetera 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 scusate il mio raffreddorino e andiamo avanti con la quarta gara di sabato sì siamo sbagliato riga comunque valencia osasugna voi sapete la mia simpatia o amore odio per l'osasugna perché è una squadra folle è come il ren come il ren in francia c'è l'osasugna in spagna l'osasugna è una squadra folle l'osasugna è una squadra figurati questa la vince facile pareggio perde figurati l'osasugna contro quelli lì sconfitta sicura pareggio vince figurati questa partita l'osasugna farà una marea di gol 0 a 0 figurati questa partita l'osasugna non segna neanche se viene giù gesù cristo fa due gol come si suol dire no lei fa sempre quello che non ti aspetti è una sfida contro la diciannovesima il valencia è lì disperato e francamente vedere un valencia che mi finisce nella serie b francese sarebbe una brutta botta dai diciamolo perché il valencia siamo sempre stati abituati a vederlo in champions con cooper e invece potrebbe finire nella serie b francese l'osasugna ha bisogno di punti per la zona europa quindi partita da 1 o 2 anche questa proseguiamo mallorca real sociedad 2 fisso la real sociedad vorrà rifarsi dopo la sconfitta con la roma è in quarta posizione che vuol dire comunque champions però deve sempre guardarsi alle spalle perché comunque il simpatico betis è lì a tre punti quindi una sconfitta contro il mallorca o anche solo un pareggio permetterebbe poi al betis sevilla di avvicinarsi ancora di più anche se adesso parleremo anche del betis sevilla non ha una partita semplice comunque sicuramente c'è l'altra virgolette più facile la real sociedad contro un mallorca decimo senza troppe pretese di europa o che cosa quindi 2 mallorca real sociedad 2 eccola qua sevilla contro almeria diciassettesima contro diciottesima io ho messo valencia sì valencia in spagna ero sopra pensiero sevilla almeria 1 ragazzi miei il sevilla reduce dalla vittoria contro il fenerbace in coppa gioca contro la sua diretta concorrente per la salvezza ha l'obbligo di vincere a parte che diciassettesima contro diciottesima 1 non ci sono dubbi dopo un sevilla che mi batte 2 a 0 il fenerbace non riuscire a battere l'almeria che è anche alle sue spalle ed è l'occasione per allontanarsi un attimino nuovamente dalla zona pericolo è vero che sevilla e almeria sono a pari punti a 25 però ragazzi miei è il sevilla è il sevilla anche se quest'anno è caduta libera in campionato vedremo vedremo proseguiamo con la sfidona eccola qua la sfidona che tutti aspettavano Villareal Betis Siviglia la sesta contro la quinta e qua voglio dare fiducia al Villareal 1x 1x perché il Betis sta un po' anche scalchignando in Europa se non sbaglio aspettate che vado a controllare perché non mi ricordo più che cosa ha fatto il Betis la settimana perché i cuginetti ha vinto 2 a 0 il Betis ha preso 4 papine dal Manchester United quindi sarà un attimino stanchino per la sfida contro il Manchester sarà anche abbacchiato per le 4 pere che ha preso giocano domenica loro si sono incontrati al giovedì hanno pochi giorni per recuperare io il Betis Siviglia lo vedo leggermente sfavorito contro il Villareal quindi do fiducia al Villareal 1x è una partita abbastanza da tripla proseguiamo Atleti Bilbao Barcellona x2 è la nonna contro la prima Atleti Bilbao che ancora qualche sciansina di Europa volendo perché comunque non è lontanissimo è a 4 punti dal dal Villareal che è sesto e a 3 punti e a 2 punti dal Raio Vallecano che è settimo sapete benissimo che se vincono la Coppa le prime 6 la settima ne può approfittare quindi il settimo posto può valere un posto in Europa quindi l'atletico un pensierino ce lo può fare e un pareggiotto col Barcellona potrebbe anche essere positivo visto che comunque ha frutti la prima della classe quindi x2 do fiducia al Barcellona ma non al 100% metto un x extra anche perché la quota me lo consente perché il 2 fisso è dato a più di 2 quindi mettere l'is2 1,30 1,40 però te lo paga tranquillamente concludiamo con il Monday Night la partita del lunedì sera con Girona Atletico Madrid anche qui vale lo stesso discorso che ho fatto per il Atletico Bilbao Barcellona con una piccola differenza il Girona non ha più nulla da chiedere al campionato se non quei 10-12 punti che gli basterebbero per essere tranquillamente salvo quindi anche qui x2 perché il Girona un pareggio con l'Atletico non gli farebbe schifo mentre invece all'Atletico Madrid servono punti pesanti perché le avversarie sono lì vicine il Betis a 4 punti la Real Sociedad è solo un punto e se dovesse vincere col Mallorca e loro non riuscire a vincere manderebbe nuovamente l'Atletico Madrid al quarto posto che è quello sempre valido per andare in Champions però un terzo posto ti paga un po' di più ragazzoli proseguiamo con la schedina alternativa qua chiacchierò o meno e andrò via secco Real Madrid Espanyol over 3,5 dato a 2,50 qui il Gigione esagera Elce Bagliadolid gol dato a 1,80 Celta Vigo Raio Vallecano gol dato a 2 Valenza Osasugna over 2,5 dato a 2,35 o se volete potete giocare il gol però paga un po' meno eh Mallorca Real Sociedad gol più over dato a 3,30 qua il Gigione esagera in maniera folle Siviglia Almeria over 2,5 dato a 1,80 Villareal Betis Siviglia gol più over dato a 3,20 qua veramente gol più over dato a 3,20 Villareal Betis Siviglia follia follia però mi acchiappava Athletic Bilbao Barcellona over 2,5 dato a 2,05 e infine concludiamo con Girona Athletico Madrid over 2,5 dato a 2,10 come vedete i bookmaker credono poco negli over e nei gol per quanto riguarda il campionato spagnolo che quest'anno è un po' sterilino diciamolo così il campionato francese sta dando un po' più soddisfazione il fatto di reti eccetera che non il campionato spagnolo quello tedesco resta sempre abbastanza stabile su parecchi gol certo c'hanno il problema del venerdì sera che spesso le gare terminano con soli massimo due reti non capita sempre settimana scorsa è finita 2-1 quindi c'era l'over più gol gol più over che dir si voglia però tendenzialmente il venerdì è una partita un attimino bloccatella spero non stasera vedremo detto questo ragazzoli io vi saluto vi ringrazio adesso faremo a proposito il campionato tedesco poi faremo quello inglese e lascio per ultimo il campionato italiano che comunque spero per le 8-8.30 di mettervelo online detto questo ci vediamo alla prossima ciao ciao ciao